bene 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 bentrovati ai nostri telespettatori di cilento channel pensate siamo alla cerimonia di premiazione del nostro ymtv festival in italia sulla costa del cilento e ci sono tanti ospiti che attendono saluto però subito la mia compagna di viaggio agnese mandetta bentrovata agnese ben trovato gianni ciao a tutti buonasera e naturalmente saluto subito i collaboratori ovvero raffaella giaccio che ha lavorato all'organizzazione francesco bori il giurato inglese adria pignol graphic designer e la regia di andre giaccio grazie a questi collaboratori noi abbiamo realizzato un festival eccezionale dal 4 al 24 di aprile e dunque salutiamo subito i nostri ospiti grazie ad agnese che ce li presenta salutiamo i nostri ospiti cominciando da joel girot robbi ninni giordan galletton eve austin joan chagnon roger rapaport and aileen gruba ashlyn price greg powers and chen and chen okay thank you so much thank you so much for being with us thank you we feel ben honored welcome everybody welcome grazie ai mille prego caro prego e allora questi fantastici artisti che ringraziamo da subito sono i finalisti che questa sera riceveranno un premio partiamo subito con le varie sezioni noi naturalmente premieremo tutti i le sezioni che hanno partecipato al festival e quindi partiamo dal feature film e vediamo subito e allora premiamo subito come miglior film pilot error grandissimo complimenti best feature film pilot error congratulations everybody thank you thank you for making it allora subito la menzione vediamo subito dunque la motivazione una storia appassionante e travolgente con uno svolgimento sorprendente per un racconto di realismo sociale interpretato da un grande cast agnese a te la traduzione grazie gianni i hope to convey gianni's meaning he was very thoughtful and he has put all his soul in this festival so please bear with me so pilot error is has been chosen as best film um written by roger troppoport and directed by joe anderson uh is a captivating story with a surprising unfolding a tale of social realism interpreted by a great cast allora subito diciamo che i nostri vincitori si porteranno a casa a livello virtuale il delfino d'oro ok the dolphin is a symbol of our town which is agropoli and is a town by the sea so the dolphin is our symbol and this is your your award in a way oh nice yeah thank you sentiamo dunque il produttore che cosa dice dopo aver ricevuto questo premio anche se virtuale ma faremo in qualche modo glielo faremo per venire insomma vedremo ok rogers we would like to hear you about uh this news and uh we are looking forward to sending you our uh you know award thank you well we're sorry that we can't be there with you together uh but we're all going to come to italy um to see you in person it's only when um when we made this movie um we knew that um it was going to have an opportunity to tell people uh information that would help make flying safer and we're very pleased that um the award is wonderful and we're also glad that some of the problems that uh led us to make the movie have now uh been addressed by the india industry and um uh including today i mean they're really working hard to try to solve these problems with automation and um um the result is we hope that working together flying will be safer and these awards are really important to us because um this week we just learned uh that the movie is going to be um translated into spanish and we hope one day italy italian um and so on because uh we all fly and 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 it's a worldwide story it affects every every one of us yes today yes it's so true this is so true so the ward really ward is really um you know part of a community that's helping making flying safer and we're glad to be working with you we really appreciate the nice the kind words and i'm glad that we have a pilot here craig powers we have the cinematographer david uh are with us today and obviously um this award wouldn't have happened if we hadn't had them so many people who worked so hard on the movie thank you i hope to remember everything you said roger sorry allora gianni ci dice roger che questo film è un film che ha aiutato moltissimo aiuterà moltissimo tante persone a volare in modo più sicuro perché ha denunciato ha ha riportato insomma alcune cose che facevano sì che volare fosse un po' più pericoloso di quello che è oggi grazie proprio al film quindi eh è un film per tutto il mondo e roger ha avuto questa bellissima notizia che sarà tradotto in spagnolo e si spera che presto possa essere tradotto anche in italiano ed è un film per tutti tutti i diciamo viaggiatori che volano per il mondo perché veramente aiuterà eh l'industria proprio che si occupa del costruire gli aeroplani a fare le cose in una maniera più sicura per per i vari viaggiatori e questo film dice roger non sarebbe potuto essere così eh ben fatto senza l'aiuto di tutto il suo eh crew e cast eh che appunto hanno dato insomma tutte le informazioni del del caso c'è anche un pilota a bordo quindi eh anche un pilota fa parte della crew molto bene molto bene craig powers vuole aggiungere qualcosa sì sì uh i was unaware of the difficulties that airlines were having with the computers and pilots and training until roger invited me to be part of this movie and i've been particularly aware ever since then roger and you say it is progressing it's getting better but just last week i i remember reading in the newspaper that it's happening again in planes almost every year something's going on in plane safety that has to do with computers is that correct um it's a training issue um and we actually um have a story today in wired magazine that i'll i'll send all of you i'm gonna send it to you on a chat link um and the good news is is we know how to fix it and uh it's beginning to happen uh so it's mostly a training issue but this story will explain why i'm optimistic is it because i think everybody's in agreement that automation isn't perfect and uh there needs to be a lot more training automation actually makes it harder to fly an airplane not easier and there needs to be more training and that's that's the future and not just with airplanes but with cars we've seen this with the tesla etc so in other industries you have a point there you have a point there molto bene ok Gianni si certo ci sono ancora tanti tanti problemi da da risolvere e soprattutto mhm Craig non era molto al corrente di tutte queste problematiche fino a che Roger non gli scrisse e non gli fece insomma rivolgere l'attenzione su queste problematiche e eh Roger è molto ottimista perché grazie al fatto che questo film sta spiegando eh alcune difficoltà che ci sono con l'automazione eh che è diventata una parte così integrale del volare Roger dice che grazie a questo film appunto eh si evincerà che c'è molto più bisogno di eh un maggiore eh allenamento di una maggiore formazione delle persone che e solo eh solo automatizzare gli aeroplani fa che volare sia più difficile non più facile e quindi sta succedendo anche con le macchine con la Tesla per esempio eh c'è bisogno di una maggiore formazione delle persone e l'automazione va di pari passo con quella che è appunto la competenza umana poi molto bene quindi è un film importante io credo che avrà un bel successo dappertutto e lo auguro veramente di cuore a tutti benissimo grazie allora per questa vostra eh partecipazione siamo molto contenti e onorati di eh essere insomma un festival capace di eh aver dato il primo premio a questo importante film benissimo 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 yes we feel very honored to have been able to award such an important film thank you for participating really ok allora adesso passiamo invece alla sezione eh short film benissimo benissimo allora miglior cortometraggio eccolo lì complimenti grazie 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 e shannon is here with me she's the voice of the animation marriage fit so shannon's one of the cast members and on behalf of the entire cast shannon and myself grazie mille we're very humbled and honored to receive this award in the campagna region where my mamma elvita grazie mille is from and when we started this this festival run the day one of the festival rob fermati che devo darti la motivazione rob johnny wants to explain why he chose to award your film yeah i want to know too okay okay so this is wonderful i love this session allora posso posso bob allora motivazione per mariage fit di rob di ninni ironico efficace l'opera ben costruita e diretta ha saputo giocare con i luoghi comuni e i sentimenti adeguandosi magistralmente al veloce linguaggio comunicativo della rete bentza ok so the motivation is that the film is ironic and very effective it's it's well constructed and well constructed and great direct in work Rob has been able to play with cliches and feelings masterfully adapting them to the fast communicative language of the web all right it sounds beautiful in Italian and English thank you we do try you know sometimes we you know me mostly thank you I have my days you're doing an excellent job this film is for my mom and my dad who just passed away on behalf of them and my Pugino who was on the whole Pugini family the whole family has been a fuel for me for my comedy and for my support they supported me in terms of just go out and be silly be you and I'm like okay that's the Italian babe you know we're silly and this movie is set to maximum fun Shannon was a great part of it she yeah she was adorable she's the voice on the phone for those who haven't seen it and the cast and crew came together like I mentioned before very collaborative no egos just a lot of fun on set and we did it in two days and it took us like almost a year to do the the animation and the sound design original music Nicholas Danini as I mentioned on guitar featured and Patrick he is the original composer Adrian Atwood is the DP Jeffrey Palmer is my co-director I'm going to interrupt you just because my brain cannot hold all this information you know I need to translate okay Gianni Rob è praticamente felicissimo del premio sta menzionando tutta la sua famiglia che ha collaborato nella appunto girare il film ci hanno messo solo due giorni per le parti insomma recitate dalle persone però poi invece un anno intero per la musica e le animazioni e quindi hanno lavorato duro hanno lavorato senza ego e sono stati una grande squadra quindi lui è contentissimo Shannon è stata bravissima sono stati tutti insomma molto collaborativi e hanno creato una bellissima squadra great teamwork molto bene allora andiamo avanti sempre nella sezione shorts vediamo short film naturalmente vediamo chi è la prossima premiata complimenti Elin brava Elin we love you even if you don't like that I translate all the time I love you all the same I'm very honored thank you very much ok say hi to Mike for me please allora vado vado con la motivazione yes please ok con perfetto equilibrio la protagonista ci restituisce una straordinaria dinamica emotiva risultando particolarmente credibile nella tensione drammatica del racconto mamma mia Elin forgive me in advance if I'm not able to translate that well ok please ok and so the motivation for giving you this award it's been said beautifully by Gianni but it's our sentiment both of us so with perfect balance Aileen Gruba gives us an extraordinary emotional dynamic resulting particularly credible in the dramatic tension of the story so your interpretation has impressed us really very much thank you thank you so much it was a very challenging film for the for the actors for sure I also produced it for those of you who don't know and wrote the screenplay from an original story by Tim Micah yeah and we evolved the characters and the story to fit a very relevant situation which is children are disappearing all over the world these days and how are the families actually dealing with it wonderful Elin ci ringrazia e appunto ci ricorda che lei ha prodotto il film e la persona insomma che ha proposto l'idea del film è il nostro scrittore Tim Micah del quale io sto leggendo il libro Pray I'm reading Pray by Tim Micah you know please tell him you know I love it I'm loving it anyway I'm gonna review it by the way so oh did you finish I'm sorry I was gonna add one more thing yes please do I think it's really important to mention to the whole world that 80% of the cast and crew on this film are people living with disabilities and yet the story has nothing to do with that from the beginning to all the way through production and all the way through the end and we mentored a young director with spina bifida our editor has a spinal cord injury and that's the reason we made this film is to show the industry and the world that people with disabilities have skills and talent and we need to welcome them into our industry and onto our screens thank you so much I'm so moved right now oh god thank you thank you Gianni dunque ci diceva Elin che lei è particolarmente orgogliosa di questo film non solo perché è necessario dire che tanti bambini spariscono nel nostro nel mondo ogni giorno ma anche lei ci dice che tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del film sono persone con delle disabilità sono persone diversamente abili e quindi lei vuole dire questa cosa forte a voce alta proprio per dare il benvenuto nell'industria cinematografica alle persone con delle disabilità perché hanno anche loro tanto 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 talento e quindi questo talento va apprezzato e vanno inclusi anche nell'industria cinematografica grazie Elin grande onore ad Elin ok bene 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 continuiamo sempre nella sezione short film e adesso c'è un premio speciale vediamo a world allora c'è la menzione ok vai Ashlyn because you had the ability to give life to such a strong character but at the same time supported by a mature personal approach you did so well girl congratulations to you siamo giunti alla premiazione sempre nella sezione feature film vediamo complimenti congratulations richard thank you so much it's a real honor to be seen in that way it's a with such a wonderful film be part of allora adesso leggo la motivazione e poi subito dopo sentiamo le parole di richard dunque eccolo qua con grande carisma poche parole e pochi gesti un'interpretazione che riesce ad esprimere una forte sensibilità civile e umana di richard so richard really has been chosen as the best actor in pilot error because he has delivered with great charisma few words and few gestures such a he's has been such a great interpretation and conveys deep social sensitivity and humanity thank you so much that means an awful lot we watch the films we watch them well i know you do that's wonderful we really do that it was it was such an incredible story to be part of and very compelling even though the character is sort of is continually makes it difficult for the heroine to do what she what she feels necessary to do he does sort of spur her on to 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 where to where she where she gets to it was it was such a pleasure to be part of and it's a very much an honor to be chosen thank you so much thank you thank you for doing that thank you Richard si sente molto onorato e si sente appunto partecipe di quello che è il progetto di tutto il film e anche se lui è stato in un certo senso l'antagonista poi di dell'attrice Kate del carattere insomma del personaggio di Kate perché appunto le metteva sempre i bastoni fra le ruote però in un certo senso la spronata poi ad andare fino in fondo ecco sometimes being the antagonist is a blessing in disguise you know yes indeed it takes out the stubborn streak out of you and makes you do things that you didn't expect by you know from yourself that's what happens to me so I suppose it happens to everybody all right Gianni possiamo continuare molto bene allora adesso la sezione trailers e complimenti in nomine patris in nomine patris the best trailer ever mate grazie molto grazie Gael complimenti vivissimi allora leggo subito la motivazione trailer che sorprende per l'eccellenza tecnica la bravura degli interpreti e per la fotografia efficace intrisa di progressiva narrativa wow so I'll try my best this time okay so this is a trailer that surprises you with its technical excellence the skill of the performance and the effective photography imbued with narrative progression I don't understand half of it but hey I'm the translator don't shoot me okay sono stato troppo complicato complicato un poco complicato però però efficace però efficace Gael we loved it it's very well made it's very compelling and it's technically perfect thank you thank you very much the gist of it yes all my all my team we are very honored to be to have this prize tonight with you and this is a real pleasure for us and a guarantee that we receive from you and this is a very very big pleasure because this is very hard to begin with such kind of film for a French first movie and this is quite quite difficult historical movie an action movie and and very there is a lot of necessity that we don't have on other kind of films and especially a lot of people technicians characters comedians of the team Joel sorry for interrupting but our fellow friends here don't know that your movie is about the birth of national intelligence exactly in France and in Italy so this is a big thing absolutely the beginning of the secret services and the intelligence since the 18th century to nowadays so this is the idea we're beginning the beginning is under the King Louis the 15th in France and we have the beginning in the castle of Fontainebleau that we have seen in the trailer so this is the beginning of a of a first pilot for a serie and we expect to see that in two years now yes let's hope for the best and best of luck yes best of luck Gianni abbiamo detto con Joel che appunto questo trailer parla della nascita del dei servizi segreti in Spagna in Francia e in Italia scusatemi in Francia e in Italia ed è anche se è un film d'epoca una serie d'epoca si spera che diventi una serie è molto ben fatto ed è molto molto interessante quindi auguriamo insomma tutta la fortuna possibile a innomine Patris grazie ecco infatti chiedo anche una piccola insomma un piccolo intervento di Jordan Gailleton Jordan are you there? yes yeah ok we wanna hear from you ok what what has it been like you know first of all I would like to thank you for this price it was a great really great challenge to perform some stunts with all my stun team to be an actor of this show of this movie it was really really interesting a really great challenge and I would like to do some special thanks to Joel Giraud the producer to give me this opportunity and also thank you very much for this price it was really great ha dato in anteprima forse in Italia in Italia il trailer e quindi siamo orgogliosi veramente sì veramente sì ok andiamo avanti nuova sezione vediamo di cosa si tratta via al trailer complimenti thank you thank you so much bravissima molto brava Eva sei troppo simpatica non potevamo fare altro che premiarti you're too nice oh you mean I'm too nice and then you can't give me you gave me a prize because I'm too nice we couldn't help but give you a prize because you're so funny and engaging thank you very much thank you motivation ok motivation sorry for interrupting Eve we are going to give you the motivation for you know giving you the award per il modo originale e dinamico in cui musica leggerezza e capacità comunicativa restituiscono un prodotto innovativo wow ok for the original and dynamic way in which music lightness and communication skills give life to such an innovative product congratulations Eve you did so well we loved it thank you so much I hope to make this into a series this is just the beginning and basically it's a love letter to people everywhere that need to find a life and it doesn't matter what age you do that so I started as a love letter really to Manhattan which is where I live and to a lot women in particular that in later life can actually find great joy by just growing themselves and it really the main thing that it has to do with is learning to listen to your inner self yeah it has to do with metaphysics but I'm trying to do it in a light way so people don't go oh no I don't want to watch that you know yeah and this was just one little episode that I entered about dating but it there's many many other ones coming and I thank you very very much I love you guys I think that you work so hard on this festival and you put so much heart into it and I I honor you thank you thank you we do we do work full-time jobs all week we do this for you know love and and out of of love and for our land and for films you know so your passion shows and as soon as I I see the documentary on on the flying and don't get too crazy and we are allowed to go to your borders I would love to visit you thank you so thank you we're waiting okay Gianni Eva Eve is felicissima and dice appunto che ha creato questa questa piccola serie che appunto avrà una nuova vita avrà sicuramente molto successo ed è una lettera d'amore non solo a Manhattan dove lei vive ma anche alle donne a tutte le persone di tutte le età che non devono arrendersi perché possono continuare a vivere una bella vita ad avere un bel futuro basta solo insomma cimentarsi un po' darsi un po' da fare non bisogna arrendersi eh never give up never ok benissimo Gianni bene bene grazie a Eve e chiudiamo dunque con un'altra sezione vediamo di cosa si tratta oh I love this Gian complimenti Gian congratulations thank you so much for your support oh we loved it allora leggiamo subito la motivazione un film con grande capacità inventiva ricrea una perfetta metafora del percorso di un universo in cambiamento ok Giovanna I'll try to translate ok so we loved it ok you understood already that's awesome it's because you're French too so that's why you understood I want to mention that I spent some time in Agropoli like a week 10 years ago and I have so nice memories veramente dai wow so it's very special for me to be with you today thank you oh that's awesome news that's awesome news thank you so much a good job for that festival we know it's not easy in those lines but the pandemic situation so good job thank you thank you ci sta facendo le congratulazioni per il nostro festival Gianni grazie Joan ok so non vedo l'ora di ospitarli tutti qui veramente sì veramente sì ok lo traduco comunque Joan perché gli altri appunto non non avranno capito in italiano quindi lo traduco per tutti so this is the best experimental film it's titled a moment of whiteness just before and it's made by our lovely Joan Chagnon and the film is shows great inventiveness and recreates a perfect metaphor of the path of a changing universe so it we loved it thank you in this video a character struggling in a universe which turns from white to red to black it's like a circle of life and death on the personal level on the social level also with all the environmental issues I would like to reverse it someday and if it goes from black to white it's my hope ok we wish you the best for us all too ok thank you so Joan has already been to Agropoli which is our town we are inviting you again all of you and she loved Agropoli so so with you and ok so we are waiting for you with open arms and lots of prosecco and pizza that's universal bribery the best there is ok Gianni allora io davvero sono emozionato perché tutti questi artisti ci hanno onorato ci hanno onorato veramente per tantissimi giorni perché sapete bene che i loro filmati sono andati in onda sulla nostra televisione locale hanno fatto divertire hanno fatto emozionare e hanno creato davvero delle situazioni incredibilmente uniche e quindi io li ringrazio di cuore cercherò il modo per far pervenire a loro il nostro delfino d'oro e quindi li attendo per magari il prossimo anno proprio qui grazie alla possibilità insomma di allontanare per sempre la pandemia e abbracciarci tutti insieme ok so thank you so much to all of you for participating and we are very very proud for you know your participation today to the ceremony to the award ceremony and we would really love to see you in person to meet you in person Gianni anything else ok thank you very thank you ci sentiremo adesso via mail così cercheremo di capire come scambiarci la posta per far pervenire i premi ok ok so we will contact you via email so that we can send you the award you know the dolphin which is the symbol of our town ok thank you bravo cugino roberto bravo bravo Gianni grazie ragazzi grazie bravo bravissimi tutti thank you Craig Shannon bye thank you bye grazie have a beautiful evening thank you